Ehi, aspettate! Attento! Ci casca addosso! Avete scoperto una specie sconosciuta alla scienza, col sospetto che non sia di origine terrestre, e le avete sfondato il cranio. Piovono giù. Cosa piovono? Quei cosi. Sembra un meteorite. E non è come quell'altro. Questo è tre volte più grosso. Che cos'era? Chi è l'alieno che invaderebbe un quartiere schifoso come questo? Ci hanno trovato! Come hanno fatto? Ci sono 160 porte nel blocco! Andiamo a recuperare le armi! Li facciamo a pezzi tutti! Vai, vai! Qualcuno sa dirmi che cosa sta succedendo! Perché nell'altro scensore c'è gente morta? Devo ammettere che mi sto cacando sotto, però è una gran ficata. Io li ho portati nel blocco. Io finirò quello che ho iniziato. Ehi, se ne sono andati. Ok, auguri. Ehi, va bene. Grazie a tutti